Ciao a tutti, sono Matteo Mazzoli della libreria Sapere Ubic di Senigallia, ci trovate in corso 2 giugno, ma immagino che sappiate perfettamente dove si trovi la nostra libreria. Per la rassegna The Book Advisor voglio consigliarvi un romanzo dalle tinte un po' fosche, un thriller bellissimo che mi ha tenuto sveglio, veramente fino a notte fonda è un romanzo meraviglioso, è La mia prediletta di Romy Hausman. Siamo vicino a Monaco di Baviera, 14 anni fa una ragazza scomparve nel nulla senza lasciare traccia se non un mistero irrisolvibile, ma all'inizio di questo romanzo questa ragazza sembra tornare dall'oblio in cui era stata costretta raccontando una storia e i motivi per cui appunto è scomparsa che sembrano qualcosa di assolutamente incredibile e imponderabile. Ovviamente nulla è ciò che sembra. I motivi per reggere questo romanzo sono, anche qui, tantissimi. Innanzitutto perché veramente sono quei romanzi a cui stai attaccato alla pagina fino alla fine e che quando arriva il momento di chiudere ti dispiace ma al tempo stesso un po' di brivido te l'ho messo e la luce accesa ci vuole prima di andare a dormire perché veramente è un intrigo appassionante. Per cui un consiglio da un giallo tedesco, la mia predilegge.